Women's Health Vision, parliamo di infertilità con il dottor Carlo Gastaldi, direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Clinico Città di Brescia. Dottor Gastaldi, quando si considera una coppia infertile? Si considera una coppia infertile se dopo due anni di rapporti liberi non protetti la gravidanza non è ancora arrivata. Tuttavia, questo limite temporale può essere abbassato anche a un anno di ricerca, specialmente se l'età della donna è superiore alle 35 anni. Se dovessi chiederle la percentuale? Normalmente il problema dell'infertilità coinvolge quasi il 15% delle coppie in età riproduttive, quindi è un problema molto sentito. Qual è la causa più frequente di infertilità nella donna? Ci sono varie cause di infertilità. Se ragioniamo in termini percentuali sicuramente uno dei motivi di difficoltà a ottenere la gravidanza in termini percentuali è i problemi dell'ovulazione. Poi però esistono anche altre cause che concorrono a portare questa difficoltà. E per quanto riguarda l'uomo? Per quel che riguarda l'uomo ovviamente è tutto legato alla riduzione o del numero o della motelità o della qualità degli spermatozoi. Non sempre però, dottore, si riesce a trovare una causa certa così? Allora, diciamo che nella maggior parte dei casi si riesce a individuare, quindi a fare una diagnosi di certezza. È molto importante fare diagnosi perché dalla diagnosi poi scaturisce anche la terapia. C'è una piccola percentuale di coppie nella quale apparentemente non siamo in grado, forse perché non siamo ancora riusciti a trovare delle risposte anche a livello scientifico, non siamo in grado, dicevo, di individuare la reale causa di infertilità. Questo genere di infertilità viene classificata come infertilità idiopatica, ma anche in questo caso ci sono delle soluzioni terapeutiche. Gli esami per lei e per lui? Normalmente si parte sempre con una valutazione anannestica, cioè un colloquio con la coppia. Il colloquio ovviamente, come dicevamo prima, deve coinvolgere contemporaneamente sia la donna che l'uomo. Nel colloquio bisogna un po' ascoltare la paziente per quel che riguarda eventuali sintomi, tipo, non so, dolore durante il maestro, dolore coi rapporti, capire un attimo qual è la frequenza del ciclo, le abitudini anche di tipo lavorativo e da questo primo colloquio possono scaturire le indicazioni ad alcuni esami specifici. Normalmente durante il primo colloquio si esegue sempre alla paziente un'ecografia pelvica perché questa ci può dare già delle informazioni sulla morfologia dell'apparato riproduttivo. Si parla spesso di età, ma effettivamente quanto influisce l'età? L'età è fondamentale per quel che riguarda la donna, in quanto il numero di cellule uovo che una donna ha contenuta all'interno dell'ovaio è più o meno un numero fisso dalla nascita. Queste cellule non si riproducono nel tempo, ma rimangono fisse e vanno lentamente calando. Si considera che una donna in genere nasce con circa 2 milioni e mezzo di cellule uovo, ma già al primo ciclo mestruale a 11-12 anni queste cellule sono ridotte a mezzo milione e quindi abbiamo una grossa perdita nei primi anni. A 35 anni si ha un altro grosso calo, a 40 anni si stima che solo una donna su 10 che non abbia avuto ovviamente una gravidanza, perché poi ci sono altri fattori che possono modificare la riduzione della riserva ovarica, solo una donna su 10 ha ancora una riserva ovarica che consenta di ottenere una gravidanza. Come influisce lo stile di vita? Sicuramente lo stile di vita è molto importante in quanto peso adeguato, il fumo influisce negativamente, un po' anche lo stress. Parlevamo prima dell'età, invece nell'uomo l'età influisce relativamente, normalmente si ha un calo della produzione degli spermatozoi dopo i 45 anni. Cosa succede durante la prima visita, dottore? Beh, durante la prima visita, lo dicevamo prima, bisogna intanto fare una buona valutazione anamnestica e per quel che riguarda la donna si fa sempre un'ecografia pelvica per la valutazione strutturale e morfologica sia dell'utero che delle ovaie. Normalmente all'esame segue un esame del seme per il marito per valutare il numero, la motilità e la qualità degli spermatozoi. E poi, in base un po' alla storia clinica, si vanno a individuare degli esami specifici che ci servono ad arrivare a una diagnosi. I test di base, quindi, da eseguire? I test di base di solito sono i dosaggi ormonali. Attraverso il prelevo del sangue possiamo individuare l'assetto ormonale della paziente, andare a studiare anche la riserva ovarica, molto importante se la donna ha più di 35 anni, e abbiamo detto l'esame del seme del marito. Questi esami di base poi verranno successivamente implementati con degli esami che noi chiamiamo di secondo livello che ci servono a fare delle valutazioni un po' più accurate dal punto di vista riproduttivo. Test diversi per uomo e per donna. Parliamo prima dell'uomo? Allora, normalmente l'esame di base è l'esame del seme. Se l'esame del seme è normale, qui si conclude la fatica per il pattern maschile. Se l'esame del seme non va bene, andrebbero fatti degli esami ormonali anche per lui. Di solito si consiglia sempre un'icografia testicolare col Dopple, per escludere per esempio un varicocele, e di solito in questi casi si indirizza il paziente verso una valutazione in ambito andrologico. Per la donna? Per la donna gli esami di base abbiamo detto una visita ginecologica, un'ecografia pelvica, degli esami ormonali e poi, a secondo ripeto della storia della paziente, è molto importante anche fare una valutazione della funzionalità e della pervietà delle tue. Quindi è molto importante l'ecografia per quanto riguarda la donna? Beh, l'ecografia è un esame diagnostico di primo livello molto importante perché ci mette già in evidenza, per esempio, ci esclude la presenza di una cisti endometriosica oppure anche può farci mettere in evidenza la presenza di fibromi all'interno dell'utero che possono ovviamente influire negativamente sulla capacità riproduttiva. Si sente spesso parlare di laparoscopia come esame diagnostico? L'aparoscopia è considerato un esame diagnostico di secondo livello. Cos'è la laparoscopia? È un esame dove viene introdotto una fibra ottica all'interno del nostro corpo attraverso l'ombelico e questo ci consente di guardare e osservare eventuali alterazioni a livello dell'apparato riproduttivo. L'esame laparoscopico viene sempre accompagnato da un esame isteroscopico. L'isteroscopia, invece, è lo stesso esame endoscopico che ci serve per la valutazione della cavità dell'utero. Questi esami, messi insieme, hanno un grosso vantaggio. Uno ci possono dire con certezza se l'apparato riproduttivo della donna va bene e secondariamente in molti casi può essere anche un momento terapeutico. Cioè, la laparoscopia può diventare da una laparoscopia diagnostica a una laparoscopia operativa e quindi risolvere un problema che magari impediva l'ottenimento della gravidanza. Una volta individuata la causa, poi si procederà con le terapie. Quali sono queste terapie, dottore? Le terapie si dividono in terapie mediche, terapie chirurgiche e, per ultima, i programmi ideali per ottenere il risultato. Potremmo parlare di questo argomento delle terapie nel nostro prossimo appuntamento, dottore, se d'accordo. Va bene, sicuramente, grazie. Grazie, dottor Gastaldi. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Per non perdere i nostri prossimi appuntamenti, iscrivetevi al nostro canale Women's Health Vision. Alla settimana prossima.